Sono stati fermati tra la mezzanotte di sabato e l'alba di domenica mattina i quattro correri della droga arrestati dagli agenti della polstrada di Battifolle lungo il tratto retino dell'autosole in questi primi giorni del 2014. Si tratta di un italiano e un tunisino in un caso e di due tunisini nell'altro. La droga, in tutto circa 270 grammi di eroina purissima sequestrata in due distinte operazioni, era nascosta nelle auto, una Peugeot 206 e una Citroen C1 su cui viaggiavano i quattro arrestati. L'eroina, nascosta perfino nei posaceneri, era diretta in un caso al mercato Ligure e nell'altro a quello toscano. In uno dei due episodi effettivamente il tunisino, vista la mala parata, ha tentato di corrompere effettivamente il nostro operatore proponendogli dei soldi per non procedere. Di fatto ha aggravato la sua posizione. Tutti e due gli episodi ci hanno consentito di recuperare circa 250 grammi di eroina proveniente dal napoletano. Sia la notte che in tarda mattinata di ieri i veicoli e gli occupanti e i tunisini provenivano dal napoletano e quindi noi riteniamo che nel napoletano o comunque in zona campana sia arrivata una importante partita di stupefacente perché comunque tutte e due quantitativi di droga sono della stessa provenienza, stessa qualità, particolarmente pura, eroina particolarmente pura.